Perché ci siamo sempre posti la domanda alleniamo in 20x30 rettangoli, quadrati in 40x20 venerdì sera e poi sabato mattina e poi sabato pomeriggio andiamo a giocare in 105x60 con il doppio degli avversari e il doppio dei combattenti anche per posto allora ci serve qualcosa che faccia da lavagna tattica anziché fare il prepartito di 40 minuti la facciamo a venerdì sera con il max